Un altro dipinto della serie che abbiamo intitolato Informal Forma, in quanto sono parte di genere informale ma nei quali si può intravedere una qualche figura più o meno vagamente accennata. Come al solito questa è Informal Forma 3, l'immagine può suggerire delle descrizioni che hanno comunque tutte un qualcosa in colore. Per allestire una nuova stilata, prova e riprova tessuti e colori su un vecchio manichino che le è caro, una stilista senza ispirazione. Desolata dal brutto risultato del tentativo di truccarsi improprio, una panciuta si appella alla mano perché provveda alla riparazione. Con la vista annebbiata dai bagordi di una festa notturna prolungata, si vede alquanto spatta alla mattina una signora ormai ben stagionata.